Allora, sappiamo che questa è una delle tue canzoni preferite, ma è proprio grazie a questa che abbiamo potuto conoscere una persona straordinaria come te. Stasera una piccola sorpresa per tutti? Ah, allora non so quello che abbiamo combinato. Ah, è una storia lunga questa. Aspetta, perché quella cosa si complica, stavamo discutendo. Sì, come tutti i portano sempre le cose, mi ha detto, gira su, ok. E non è finito, non ci pensa mai nessuno. Ha ragione. Grazie. Grazie a tutti. Se lo giri per fotografano, guarda, posso almeno un giorno lo metterò sinistra. Ecco, chi è che è il fotografo? Ecco, è arrivato. Grazie. E qui si va su lista per la mia storia. Grazie a tutti. Buongiorno. E qui, però, abbiamo fatto una cosa per uno. Questo, ho fatto una cosa per uno. E qui. Questo la metto a un quarto a breve. Ecco, ho capito a che serve, finalmente. E questo a te allora, questo è per me, ma da adesso te lo presto.